Per i calcibiali, la demagogia dei due Alcmeoni, di tutto il più attenzione, partiamo subito dal più supposto che perché si parla anche di demagogia? Beh perché in fin dei conti costoro rispetto per esempio agli eroi del poema omerico sono di fatto demagoghi nel senso che hanno bisogno di utilizzare determinati comportamenti, determinate argomentazioni per mantenere il potere. Infatti da questo punto di vista se ci pensiamo per esempio agli eroi dell'epica omerica sono i fin dei conti eroi relegati sulla base del destino ovvero sia certo che anche Pericle, Alcibia e tutti i costori che vivevano all'interno di questo tipo di realtà politica latene classica del V secolo a.C. per esempio erano, vedevano anche al destino. Però attenzione, esiste fondamentalmente un senso di demagogia che si riallaccia, attenzione, al senso del nuovo tipo di politica che è quella della democrazia. Durante la guerra di Troia non c'era questo aspetto cioè della democrazia come partecipazione politica. Questo è molto interessante perché la guerra di Troia in fin dei conti si riallaccia a un pretesto che è probabilmente quello del fatto che Elena viene rapita appunto da Sparta e Menelao, pertanto re di Sparta, aristocratico, va ad Agamemnon il fratello e chiede pertanto giustizia in questo senso sulla base appunto del cosiddetto diritto dei più forti inteso come in questo caso Agamemnon è poi sulla base del fatto che è re dei re, dichiara guerra ai Troiani. Troia pertanto non è una città greca, è una città di stampo barbaro che sorge appunto nell'Asia minore o della Turchia e i greci, Agamemnon e poi esemplificherà questo atteggiamento tale per cui gli aristocratici dovranno seguirlo i diversi re, per esempio Ulisse, re di Itaca o anche Achille, signore dei Mirmidoni, lo dovranno seguire per andare a fare questo tipo di guerra. L'atteggiamento, attenzione, non è tanto quello tale per cui io devo sconvincere qualcuno in quanto questi tipi di aristocratici, sulla base del fatto che esiste il diritto del re dei re sugli stessi aristocratici, seguono il re dei re, ma gli stessi aristocratici poi sulla base del loro particolare e in fin dei conti combattono anche da un punto di vista dell'oplitismo sulla base della loro intenzione particolare e ci saranno anche delle diversificazioni da attuare, da considerare infatti se prendiamo appunto Achille a un certo punto essendo lui semidio nel senso appunto dell'Aedo come lo esemplifica Omero, l'Aedo Omero lo esemplifica come quella caratteristica dell'aristocratico che va a combattere da solo ma va a combattere anche cercando in certo qual modo di compiere lui il suo destino in quanto sé. Cioè ad Achille non interessa in sé per sé forse tanto il destino ma interessa appunto vendicarsi inteso come seguire la sua ira. Differentemente da Ettore dove in fin dei conti c'è questo senso di dover rispettare il senso della patria, si potrebbe dire un senso patriottico del destino tale per cui anche se so che Achille mi ucciderà io scendo dalle mura e lo affronto. Si vede qui appunto la critica appunto di Aristotele rispetto all'atteggiamento di Ettore stupido nei confronti di Achille. Ma perché in fin dei conti si può iniziare a parlare di un primo vero senso di demagogia, un primo tipo vero a differenza della guerra di Troia, senso di demagogia a partire in fin dei conti dalla democrazia greca, soprattutto dalla democrazia di stampo atenese. Perché attenzione la demagogia comincia a svilupparsi in modo impattante soprattutto con l'evoluzione della democrazia. E questo è molto interessante perché attenzione, con lo sviluppo della partecipazione politica intesa come elezione alzata di mano e in certo qual modo cercare di capire come mantenere il potere democratico sulla base appunto dell'evoluzione politica partendo da appunto la guerra di Troia, cioè l'idea che solo gli aristocratici hanno diritti, fino a arrivare in certo qual modo all'età classica dove ci sono altri oltre gli aristocratici che possono avere diritti politici come il ceto medio, magari anche i nullatenenti. Si veda la riforma di Pericle appunto sulla base della riforma dei nullatenenti, tale per cui sempre l'equazione dell'antica Grecia valeva che per avere diritti politici bisognava partecipare alla difesa del territorio, tale per cui appunto se non si partecipava alle difese del territorio non si potevano avere diritti politici. Ecco che allora se nell'etarcaica l'unico privilegio era quello degli aristocratici, cioè solo loro potevano partecipare alla difesa del territorio, ora successivamente anche chi se lo poteva permettere poteva partecipare alla difesa del territorio, cioè chi aveva un certo tipo di reddito. Si veda anche la riforma di Sorone basata sulle gerarchie di reddito, intesa come se hai reddito puoi permetterti di spada, scudo, lancia per esempio, allora puoi permetterti di partecipare alla difesa del territorio, allora puoi permetterti di partecipare alla vita politica. Questo era il presupposto da cui poi scaturisce il nesso con la democrazia perché nesce un senso di conflitto tra ceti, cioè parliamoci in questo senso, nel propriamente senso della guerra di Troia, non c'era il senso del conflitto tra ceti, inteso come conflitto tra aristocratici e non per il diritto, perché il diritto, inteso come diritto degli aristoi, era solo quello come diritto vero e proprio, non esisteva il diritto di tutti gli altri, gli altri dovevano sottomettersi agli aristoi, cioè ai migliori, intesi come sangue, cioè nati così e per natura superiori in quanto tali, tale per cui non c'era possibilità di discussione alcuna. Questo tipo di atteggiamento resterà più o meno tale, comunque sia anche nell'età classica, ma comincerà un minimo a spingersi un pochino più oltre, per esempio nella realtà atenese, sulla base appunto del ceto, inteso come non è necessario soltanto essere aristocratico, ma se tu cominci a poter produrre e avere un certo tipo di reddito, magari avrai anche tu questa possibilità. E infatti si vede appunto l'Atene classica del V secolo a.C., dove questo primo tipo di democrazia politica inventato nell'Atene classica, nella Grecia classica, comincia a vedere un pochino di più persone, maschi e adulti intesi, poter partecipare alla vita politica e dibattere su questi tipi di tematica, tale per cui se l'aristocratico fa venire fuori una tematica, anche il cittadino appartenente al ceto medio può criticare il presupposto dell'argomento dell'aristocratico o l'argomento in sé dell'aristocratico ed esemplificare, secondo lui, qual è la problematica di questo argomento. Non importa più il ceto, non importa più che è l'Agamemnon a dire la cosa o è l'Achilla a dire la cosa, importa l'argomento. Pertanto capite bene che da questo tipo di esemplificazione, cioè l'idea che importa l'argomento, ora nasce il primo tipo, attenzione, di demagogia, cioè l'idea che da dove importa l'argomento allora noi dobbiamo cercare di strutturare un certo tipo di retorica per fare in modo che l'argomento in sé e per sé magari passi in secondo piano o in un certo punto sia confutato magari anche in modo fallato per riuscire a passare il nostro argomento su quello del prossimo. Tale per cui ecco che nasce il senso ora vero e proprio del senso proprio filosofico, cioè l'idea che un conto è la verità, un conto è la falsità, un conto è la validità, un conto è l'invalidità. Si pensi anche al senso dell'organo aristotelico, il valido, l'invalido, il vero, il falso, inteso come anche la struttura del sillogismo che in fidei conti vede Aristotele riflettere su Platone praticamente, cioè su Socrate. Ora nascono questi uomini, cioè l'idea del V secolo a.C. l'idea, attenzione, di Pericle e d'Alcibiade è quella di uomini che sono inseriti all'interno di questo contesto, tale per cui devono inserirsi, sono inseriti all'interno di un contesto che è quello di stampo democratico, dove non sono solo più i ceti aristocratici che hanno un certo tipo di possibilità politica, ma sono anche alcuni in più, altri. E pertanto Pericle, così come Alcibiade, dovranno prendere degli accorgimenti per cercare di capire come maturare il senso del potere, il potere personale, in relazione a un certo tipo di costituzione, intesa per modernizzare il termine costituzione, cioè evoluzione di un certo tipo di diritto, che vede sempre naturalmente gli uomini in certo modo per natura poter disporre di questo diritto, ma in modo un pochino più evoluto. Dal senso, capiamo bene, che quindi c'è un'esemplificazione più evoluta e quindi più persone possono partecipare. Infatti, all'interno di questo tipo di situazione, ecco che cominciano, per esempio, nel V secolo a.C., a nascere le prime riforme, nel periodo di Pericle, per esempio, che permettono un certo tipo di reddito anche a chi partecipa alle cariche pubbliche o anche, in fin dei conti, a chi si occupa di fare, per esempio, il rematore, cioè una delle cariche militari. Questa è anche la riforma di Pericle, cioè Pericle si occuperà, appunto, all'interno delle sue riforme a permettere a chi partecipa alle cariche pubbliche, ma in certo qual modo anche a chi fa il rematore, di avere uno stipendio di stampo giornaliero. Ecco che, attenzione, questo tipo di riforme, vede interessante questo tipo di particolare, nel senso che, per avere supporto politico, importa anche il senso della riforma. Cioè, attenzione, non è più soltanto ora il senso del ceto, inteso come l'aristocratico, che vale in quanto tale, e noi dobbiamo ascoltare lui, Agamem, non la vederei, vale, tutti gli altri fanno schifo, e allora non dobbiamo ascoltarli. Non è più solo questo, conta anche l'argomento, conta anche la strutturazione dell'argomento, e conta anche, appunto, il senso di un certo tipo di calcolo del consenso, inteso come quanti possono partecipare per il senso del ceto popolare. Cioè, esiste un diritto, più o meno, più allargato, che permette a tutti di poter, a tutti costori intendo, non agli altri, a tutti costori che ne hanno diritto, cittadini maschi e adulti, di poter alzare la mano, e impattare all'interno del calcolo politico. Tale per cui Pericle è uno stratega, o stratego, se vuole stare lì, cioè se vuole appunto con gli altri nove strateghi, ce ne erano dieci, essere eletto, ma se è eletto Pericle, allora lui comanda sugli altri, è chiaro che dovrà essere appunto nominato, inteso come votato da i suoi concittadini. È chiaro che non potrà più basare un calcolo del consenso, soltanto sul favore di aristocratici, ma dovrà appunto cercare di capire quali possono essere quelle riforme che interessano anche agli altri, cioè a coloro che non sono aristocratici, su una struttura, in fin dei conti, di costi-benefici, anche intesi voti personali, sulla questa democrazia diretta. Quindi dovrà, in certo qual modo anche, non è detto, ma questi cittadini di questo periodo storico dovranno anche cercare di esemplificare un certo tipo di argomenti che potrebbero da un lato contraddire principalmente quelli che avevano esemplificato prima sulla base del mutamento del senso dei ceti, cioè di quanti possono partecipare e di coloro che hanno diritto a partecipare e di appunto coloro che possono essere più impattanti all'interno dell'influenza politica. Questo vale tanto per Pericle quanto per Alcibiade. Parlo di questi due perché in fin dei conti sono quelli che hanno impattato tantissimo in questo periodo storico, soprattutto Pericle, ma in certo qual modo anche Alcibiade. E infatti non è un caso che il senso demagogico dovrà poi essere interessato non più soltanto al ceto, ma a chi di diritto può partecipare. Il conflitto tra ceti esisteva, attenzione, perché si manteneva il senso retorico-pratico. E pertanto, come mantenere tuttavia appunto il senso retorico-pratico? Probabilmente attraverso l'ambito sofistico. Cioè non è un caso che ad Atene, nel V secolo a.C., vi andavano sofisti, cioè vi andavano questi uomini, individui molto istruiti nell'ambito retorico, nell'ambito filosofico-pratico, nell'ambito retorico inteso in questo senso, cioè saper sviluppare delle raccomandazioni di stampo convincente. Non è detto che, secondo Platone, fossero poi raccomandazioni valide. il presupposto era quello di utilizzare la struttura della retorica per mantenere una demagogia e utilizzare questa demagogia per mantenere il senso del calcolo del consenso, cioè il potere politico. Ora è chiaro che gli aristocratici, in questo senso, erano avvantaggiati, ma, d'altro lato, c'era l'opposizione del senso della particolarità della partecipazione politica, intesa come anche nuove riforme sulla base del senso dell'evoluzione della democrazia, che, d'altro canto, cercava di opporsi, controbilanciare a questo nuovo tipo di atteggiamento aristocratico. Ma, in tal senso, è chiaro che questi personaggi, Pericle, per esempio, erano una via di mezzo tra il senso, appunto, del classico aristocratico che vuole mantenere il potere, ma che non può più, come nell'antichità precedente, avere il privilegio del ceto, ma che dovrà davvero ora utilizzare la retorica. Dovrà ora utilizzare davvero il comportamento adeguarsi a un certo tipo di struttura formalmente accettata all'interno della polis e se non lo farà potrà incappare in critiche, potrà incappare in condanne, potrà incappare nell'esilio o ostracismo. Ed ecco perché tutto ciò cominciò a pesare su questi personaggi, tale per cui, in questo senso, l'aristocratico, se governava o chi governava, non era più in ogni caso esente da responsabilità, cioè non era più esente perché era di quel ceto lì. Anche se lo era aristocratico, anche se apparteneva agli Alcmeonidi come Pericle o come Alcibiede perché erano parenti in fin dei conti, ecco che, comunque sia, non si era mai esente dal rischio, cioè il peso continuava ad esistere. Quindi il gioco della politica e il gioco all'interno di questo tipo di primo tipo di politica democratica da parte dei potenti era quello di mantenere un certo tipo di interesse rispetto al favore che potevano avere nei confronti dei propri concittadini ma d'altro canto anche riuscire a barcamenarsi all'interno dei conflitti traceti interni e probabilmente utilizzando anche il senso retorico sofistico nonché il senso del loro atteggiamento e del loro comportamento e della loro partecipazione politica per non farsi in fin dei conti rilevare come individui pericolosi per la città. La cosa interessantissima è quindi che da un lato gli aristocratici come se avessero avuto un vantaggio di stampo retorico politico perché spesso erano coloro che potevano permettersi i sofisti cioè pagare questi sofisti per istruire i loro ragazzi, i loro figli a differenza di coloro che non appartenevano al ceto medio ma d'altro lato la democrazia tenese e proprio per questo appunto l'esemplificazione di Aristofane è uno tra i tanti fu importante la società cominciò a evincere modalità di atteggiamenti che potessero anche contrastare il senso sofistico retorico o d'altro canto utilizzare una metodologia per ammaestrare il ceto popolare a cui comunque questi individui come Pericle e Alcibiade dovettero sempre porre attenzione cioè l'idea che comunque sia le commedie o le tragedie potessero ammaestrare o indicare o far riflettere ai concittadini di Pericle e di Alcibiade quali atteggiamenti gli stessi Pericle e Alcibiade potevano mettere in campo come metodologia di governo per comandare gli altri pertanto le commedie e le tragedie erano utili potevano essere utili agli atteniesi per capire se agli atteniesi comunque soprattutto che non potevano permettersi sofistico non potevano permettersi comunque sia degli educatori coloro che potevano appunto formarli in modo adeguato potessero comunque riflettere sul comportamento di costoro ecco quindi che il senso della demagogia doveva naturalmente strutturarsi su un senso anche di attenzione a questo senso democratico è chiaro che a un certo punto questo tipo di modalità del diritto che muta e che vede una partecipazione più importante produce in certo qual modo una riflessione da parte del politico in questo senso dello stratego cioè colui che aveva anche il comando militare una carica importante anche per elezione nei confronti di chi poteva votarlo e pertanto cercare anche di collegare un senso di competenza un senso anche di attenzione politica che poteva essere in critica nei suoi confronti oppure no interessante in ogni caso come in fin dei conti a differenza probabilmente degli eroi di stampo americo questi individui dovevano quindi attuare scamotaggi importanti vivere nella vita pratica cercare appunto di ricordarsi che per quanto fossero aristocratici erano in fin dei conti individui cittadini che potevano essere sempre messi in discussione la critica che per esempio farà platone a questi due cioè pericle alcibiede sarà da un lato che pericle questo è un esempio utilizzerà appunto il senso della lega degli oattica il senso del monopolio inteso come tassazione sugli alleati per usare quei fondi per costruire il partenone abbellire la città e quindi indirettamente far dimenticare ai concittadini la vita politica partecipativa e più che altro pertanto pericle attraverso i simposi attraverso le feste esemplificherà un certo tipo di potere che da un lato e questo si può indirizzare anche a come lo descrive Plutarco vede pericle porre attenzione a non esporsi troppo nella vita politica e non ostentare troppo la sua ricchezza nel privato per non essere esiliato porre attenzione anche a come parlava e a cosa proponeva nella vita politica ma d'altro canto indirettamente per mantenere buoni e si potrebbe dire poco riflessivi all'interno del senso consuetudinario i propri concittadini utilizzando appunto le feste per questo interessantissimo mantenere la sua ricchezza per la città cioè da un punto di vista economico pratico gli antichi greci la pensavano spesso così fin tanto che l'individuo utilizza il suo denaro per peste cose che servono alla città anche strutture che servono alla città come può essere appunto una struttura per gli dei si pensa al partenone ecco che costui è ottimo perché utilizza il suo denaro per il senso cittadino cioè investe parte del suo patrimonio per la comunità questo era ben visto assolutamente diventa pericoloso per l'antico greco quando costui invece ostenta il denaro ostenta la sua ricchezza per sé in sé per se stesso e per mostrare agli altri quanto è bravo e quanto è bello ecco Peri che in realtà utilizzò se compariamo Plutarco a Platone un addeggiamento probabilmente interessante cioè se interpretiamo Perico in questa maniera in questa misura Perico da un lato forse per mantenere il potere utilizzò appunto i fondi della Liga degli Oattica per produrre feste per abbellire la città per costruire il Partenone o parte del Partenone per permettere a Fidia di essere finanziato il suo amico appunto artista e Fidia appunto che dirige si occupò di dirigere i lavori del Partenone però dall'altro lato rapportando questo a Plutarco ci rendiamo conto di un altro fatto cioè dell'idea che naturalmente Pericle si occupò di prendere parte dei fondi della Liga degli Oattica prendere parte dei suoi fondi e sviluppare arte all'interno della città che quindi indirettamente produceva bellezza per la città ma d'altro canto in quanto produceva questo faceva in modo che i suoi concittadini potessero in certo qual modo ammirarlo sulla base della consuetudine greca classica cioè l'idea che costui comunque utilizza parte dei suoi fondi parte del suo tempo parte della sua cultura per la città stessa e quindi senso d'ammirazione praticamente la differenza con Alcibiade sarà che invece Alcibiade almeno così come è esemplificato per esempio tanto da un certo punto di vista da Platone quanto da Plutarco è che crede di sapere ciò che non sa in primo luogo e quindi ostenta un certo tipo di conoscenza che non ha a differenza di Pericle invece il rapporto a Plutarco che sembra appunto mantenere attenzione a ostentare ciò che non sa e sembra appunto esemplificare solo ciò che sa punto uno secondo punto Alcibiade ostenta la ricchezza cioè a differenza di Pericle non è capace di utilizzare in certo modo il suo patrimonio o utilizzare il patrimonio di altri indirettamente facendolo passare per appunto patrimonio della città ma che in verità è degli alleati in questo caso di Pericle per fare in modo di esemplificare un certo tipo di comunitarismo generale che possa interessare alla città Alcibiade lo fa soprattutto per se stesso stentando la ricchezza in sé e per sé per evidenziare quanto è bello quanto è bravo eccetera e questo non piaceva più di tanto ai greci ed era sinonimo in certo qual modo di tendenza alla tirannia infatti certo che Pericle e Alcibiade pesavano la democrazia atenese ma sicuramente leggendo tra loro le fonti è sicuramente molto più probabile che Alcibiade rispetto a Pericle fosse considerato davvero un uomo in potenza pericoloso per la democrazia atenese in ogni caso questo lo esemplificò con i suoi atti sulla base anche di quello che scrive Tucidide rispetto alla guerra del Peloponese probabilmente perché Alcibiade comunque per diverse questioni anche tra loro interpretabili alla fine decise sulla base anche di quello che accadde sulla questione delle erme queste statue rovinate nella città durante la spedizione in Sicilia iniziata nel 415 a.C. decise poi di tradire Atene e di andare a Sparta consigliando poi gli spartiati sui movimenti atenesi in Sicilia e continuando poi a consigliare gli spartiati anche dopo appunto la sconfitta definitiva atenese in Sicilia e il continuo della guerra del Peloponneso ciao ciao grazie a tutti